Quindi non penso abbiano tanta, tanta, tanta voglia di farsi aprire l'antrona in modo molto, come dire... Attento a questo perché... che palle, perché... ecco... Ti è piaciuta la fine che hai fatto? Eh, la prossima volta non lo fai più, mi sa, eh? Brava. Eh, bevi. Guarda. Ah, ecco, sì, diti che è meglio. Perché sono infattro? Perché vuoi sbeffeggiarti di lui? Diti che è meglio, che lo tengo ad occhio io, la tua morata proprio... Lo sto guardando, lo sto guardando fortissimo. Sì, sì, metta il dolore. Come fanno quelli che vanno giù? Eh, se quello la attacca di nuovo, Gabri, lo vedi come fanno? Ok. Il bastardo voleva fare il dolore. Sì, però quello lì dovrebbe andare. E infatti... Il colore ha vinto, potrebbe anche svegliarsi il fantasma rosso un attimo. Elisabetta che si fa vedere. Eh, ciao, sì, va bene. Allora, se mi dici ciao, però te ne devi anche andare. Oppure scendere. O vai o scendi. Tu è... Tu è quella... Che è quella? È l'altro che hai. La volta colpa è una manca lunga, eh. Intervertendo. Oggi Gabri ha l'isis facile. Madonna. Va, di game on. È stato bellissimo vedere quanta vita gli ha tolto Lorenzo con un baxter. Eh sì. Ma come è vestito quello lì? Con i capelli lì. Quello lì? Ah, con l'elmo. Come è vestito? Ma io non lo so, Anna. Mi ha fatto un po' un mischilone. Wow. 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 Ehm, ma chi è quello?